La psicoterapia è l'azione di supporto nei confronti delle persone che vivono una condizione di disagio. Tale definizione è una definizione che può sembrare riduttiva, perché la psicoterapia è anche una modalità di apprendimento di nuove strategie di comportamento e quindi è di per sé anche una forma di modifica del comportamento, come appunto l'apprendimento stesso. La psicologia clinica invece è un'area di ricerca e di intervento che si occupa dei disturbi del comportamento e ovviamente delle modalità più idonee per trattare tali disturbi. Essa si differenzia dalla psichiatria, in quanto la psichiatria è una branca, un'area della medicina interessata al medesimo ambito dei fenomeni, anche se a tali fenomeni si interviene, rispetto a tale fenomeni si interviene con modalità diverse e con trattamenti diversi. Secondo la psichiatria ovviamente un disturbo del comportamento scaturisce da un problema organico che può essere una lesione cerebrale, un difetto nella trasmissione neuronale, una degenerazione del tessuto nervoso. Invece la psicologia clinica non si occupa di aspetti organici del disturbo, ma fornisce un approccio per così dire psicologico, pertanto individua pensieri, azioni, sentimenti che caratterizzano appunto il comportamento di una persona che soffre. La madre di tutte le psicoterapie, quindi l'origine di tutte le psicoterapie, certamente appartiene alla psicanalisi, la quale per la prima volta ha cercato di dare delle spiegazioni dei disturbi psichici ricorrendo a motivazioni psicologiche e li ha trattati i tali disturbi con strumenti alternativi, quindi non attraverso spiegazioni organicistiche, ma attraverso spiegazioni di tipo psicologico. Anche per quanto riguarda la psicologia clinica possiamo dire che Freud ha dato degli importanti contributi, ha fatto capire che la distinzione tra normalità e normalità è meno netta di quanto si possa pensare e quindi hanno tali contributi, hanno rivelato che tra il pensiero normale e quello disturbato vi è una sorta di incontinuità. Oggi non abbiamo soltanto la psicanalisi che sviluppa tali psicoterapie che ricorre quindi a trattamenti non psichiatrici del disagio psico, abbiamo tanti orientamenti, tante scuole di psicoterapia che utilizzano diverse strategie, diverse tecniche che in parte in maniera sintetica affronteremo. La caratteristica importante di tutte le psicoterapie è che il disagio psichico viene affrontato non su premessi di carattere organicistico, nel carattere medico scientifico, ma tale intervento mira soprattutto al malato piuttosto che alla malattia, quindi si cerca di curare più la persona che la patologia stessa, come nell'esempio di una persona che perde un'altra persona cara, quindi che affronta, che soffre per la morte di un familiare. I psicologi chiamano questa fase elaborazione del lutto, della perdita o anche dell'oggetto d'amore quando una persona si separa, quando un coniuge abbandona l'altro coniuge. Secondo la psicanalisi ovviamente sappiamo che le radici del comportamento sia normale che patologico vanno ricercate nell'inconscio, pertanto è opportuno scandagliare l'inconscio, effettuare una sorta di archeologia della psico-umana e quindi l'intervento mira proprio a far emergere riferire attraverso i sogni, attraverso i lapsus, attraverso le libere associazioni, la strada maestra dell'inconscio. Il metodo più utilizzato secondo la psicanalisi freudiana è proprio quello delle libere associazioni che consiste nel far riferire al paziente tutti i pensieri che gli vengono alla mente. Ovviamente il successo di tale metodo richiede l'opera congiunta del paziente e del terapeuta che è resa possibile da quel fenomeno che Freud chiama transfert. In questo termine si indica lo spostamento da parte del soggetto di sentimenti e atteggiamenti legati a figure significative sulla persona dell'analista stesso. Più volte abbiamo visto che la terapia psicoanalitica si è articolata in tante scuole, in primis quella di Adler, una prospettiva adleriana, ha come finalità del suo intervento psicoterapeutico quello di restituire al paziente ciò che lo studioso chiama sentimento sociale. Per aggiuntarlo in questo obiettivo la terapia adleriana si articola in diverse fasi. Inizia con il momento dell'esplorazione in cui si raccolgono i dati importanti della vita dell'individuo, quindi attraverso i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza. Poi c'è la fase della ricerca dei significati attraverso la quale il paziente viene guidato dal terapeuta a collegare pensieri, emozioni e sentimenti emersi nel reseconto precedente. L'ultima fase è quella del nuovo orientamento, il paziente dovrà impostare in modo diverso i rapporti con il partner, se ha problemi con il partner, con i familiari, con i colleghi di lavoro etc. Nell'approccio Jungiano invece il scopo della psicoterapia è quello di promuovere e guidare il processo di individuazione che è il compito principale dell'esistenza umana e che orienta l'esistenza stessa in tale direzione. Quindi il tale scopo è quello di integrare anche in maniera armonica gli archetipi che risiedono, come vi ho detto in un'altra lezione, nell'inconscio collettivo e ricomprendere in un sé unitario le differenti componenti psichiche. Quanto riguarda la psicanalisi infantile, sappiamo che i maggiori rappresentanti furono Anna Freud, Melanie Klein, ma anche Donald Winnicott in Inghilterra, tale approccio utilizza interventi terapeutici con i bambini, quindi attraverso soprattutto il gioco, che è una modalità catartica di liberazione delle pulsioni, delle tensioni che avverte il bambino stesso. Il terapeuta quindi deve mettere in condizioni il piccolo paziente di esprimere le sue fantasie ed emozioni utilizzando appunto tali materiali ludici. La terapia sistemico-relazionale ha come finalità di riportare equilibrio in un ambiente turbato. Sappiamo che i disturbi psicologici sono parte di una totalità per cui si interviene non sul singolo, ma sulla famiglia, attraverso una tecnica che è la tecnica del controparadosso. Il terapeuta prescrive il sintomo, cioè invita il paziente a mettere in atto volontariamente il comportamento percepito come disturbante, ad esempio un pensiero ossessivo compulsivo, allo scopo di neutralizzare il sintomo stesso e quindi di annullarlo totalmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.